Brumotti presenta Le News Eco Green, un viaggio nel mondo della sostenibilità. Ciao amici Green, oggi vi parleremo di una grande innovazione di San Benedetto per proteggere l'ambiente, il tappo Twist & Drink. Sì Vittorio, il tappo è legato alla bottiglia, così non si disperde nell'ambiente. Con Twist & Drink San Benedetto anticipa la direttiva europea 2024. Svita, ruota, bevi, riavvita. Twist & Drink, musica per l'ambiente. San Benedetto Eco Green, proteggi la natura con noi.